Ciao a tutti e a tutte, oggi video esperimento, non ho la minima idea di come uscirà questo video, non ho la minima idea se è un video che vi possa interessare speriamo di sì, c'è sempre una prima volta, al massimo mi dite Erika questo video ha fatto schifo, non replicarlo mai più allora dal 2011 su Goodreads, per chi non lo sapesse Goodreads è un'app che si può usare sia sul cellulare sia sul computer dove è possibile tenere traccia dei libri letti, dei libri che si vogliono leggere eccetera eccetera e dal 2011 viene fatta questa sorta di classifica dove si stabiliscono i libri vincitori dell'anno, quindi i libri più belli dell'anno secondo i lettori ci sono tanti generi diversi, c'è una classifica, ora della fine abbiamo i 20 libri più votati che poi verranno messi in ordine di classifica dal primo all'ultimo e il primo è il vincitore, quello che riceve più voti dai lettori quindi non è importante la media, la valutazione finale del libro ma proprio quanti voti riceve dai lettori di Goodreads quindi pensavo di vedere assieme a voi questa classifica, di parlarne così, chiacchierare un po' insieme perché può essere utile per scoprire eventualmente nuovi titoli e sicuramente titoli che verranno tradotti anche in Italia prima o poi nella categoria fiction il libro vincitore è stato Beautiful World Where Are You di Sally Rooney come vi dicevo questa è una classifica basata sul libro più votato, non sulla media infatti questo libro ha come media 3.78 che non è altissima, infatti so che questa scelta ha fatto arrabbiare diverse persone perché appunto secondo tante persone questo non era il libro migliore ed effettivamente dalla media dei voti 3.78 non è che sia il massimo, quindi non capisco come abbia fatto a ricevere così tanti voti penso che Sally Rooney sia una di quelle autrici che ormai conoscono tutti pure quelle persone che non hanno mai letto i suoi libri, quindi per esempio persone normali e parlarne tra amici sì, sono una di quelle persone se mi conoscete da un po' se mi seguite da un po' sapete che io sono sempre piuttosto restia a leggere i libri di cui tutti parlano di cui tutti osannano, no? e ho avuto questo problema anche con Sally Rooney non mi sono mai approcciata ai suoi libri proprio per questo motivo ma non escludo che possa capitare in futuro categoria misteri e thriller ha vinto The Last Thing It Told Me The Last Thing It Told Me di Laura Dave che ha una valutazione di 3.96 e ok qui per quanto riguarda la trama abbiamo padre marito e padre che praticamente scompare nel nulla lascia una nota alla sua nuova moglie perché quella le prima è morta dicendole proteggila questo biglietto si riferisce alla figlia di lui 16enne che non sopporta la nuova moglie del marito del padre tra l'altro vabbè comunque diciamo che in generale questi libri tra l'altro anche proprio con questa drama mi spaventano sempre un po' perché ho sempre paura siano delle ciofeche comunque piccola parentesi perché poi io non ho guardato solo il vincitore ma ho guardato tutti i 20 libri classificati, no? e Billy Summers di Stephen King che è l'ultimo suo libro uscito è arrivato al terzo posto con una media di 4,29 cioè pure molto alta e non me l'aspettavo proprio nella categoria historical fiction ha vinto Malibu Rising di Taylor Jenkins Raid con una media di 4,11 che non è neanche male l'intro del libro praticamente dice quattro parenti famosi fanno un party epico per celebrare la fine dell'estate ma nel corso delle 24 ore in cui stanno praticamente assieme le loro vite cambieranno per sempre io poi mi sono letta anche tutta la trama e sapete cosa vi dico? mi sembra pure interessante mi sembra interessante perché di mezzo c'è questa famiglia quando ci sono le famiglie di mezzo con magari tramacci segreti, cose cioè adoro adoro questo potrei leggerlo categoria fantasy abbiamo il vincitore mi sa che ho sbagliato a scrivere dovrebbe essere a court of silver flames di Sarah J. Maas con una valutazione di 4,39 che è altissima e questo è il quarto volume della serie la corte di rose spine se non vado errato dovrebbe essere tradotta così in italiano allora diciamo che io conosco la serie per fama perché la vedo ovunque poi TikTok non ne parliamo l'autrice tutti ne parlano e ok io ovviamente non ho mai letto nulla fatemi sapere se è una serie che voi state seguendo se l'avete letta se secondo voi è valida oppure no cosa ne pensate se me la consigliate o se continuo a ignorarla allora io in questa categoria tifavo per due libri non li ho letti quindi sono anche ridicola dire tifavo per due libri che manco ho letto quindi non so nemmeno come sono però mi davano delle good vibes allora quello i due che tifavo allora uno che speravo vincesse è arrivato secondo quindi complimenti Erika cioè hai pure pensato bene capito cioè non è che sia arrivato ultimo tra i venti no? secondo e ha una media tra l'altro altissima 4,29 cioè io senza leggere i libri capito sono una veggente posso prevedere quelli che vanno bene quelli che sono validi si intitola Under the Whispering Door dovrebbe essere la storia di un fantasma che si rifiuta di attraversare scusate ma io quando devo tradurre l'inglese non mi vengono le parole in italiano quindi traduco un po' a caso di andare oltre ho scritto non so come tradurlo in italiano e appunto parla di questo fantasma che non sa attraversare andare oltre e che si innamora di un traghettatore l'altro libro è già stato tradotto in italiano penso da poco se non vado errata quindi pure qua ci ho visto lungo e pure la casa editrice che era Mondadori Oscar Bolt mi sa ha capito che c'è del potenziale in questo libro ma io quanto avanti sono ma le case editrici dovrebbero tipo assumermi per dire Erika studiati i cataloghi del mondo e dimmi quali sono secondo te i libri validi che vanno tradotti eh? eh? esiste una professione del genere perché stennò l'invento si tratta comunque di She Who Became the Sun di Shelley Parker Chan media di 4.02 il titolo in italiano è stato proprio tradotto letteralmente tipo lei che divenne il sole o diventò il sole una roba del genere ehm e quando ho fatto questo video quando ho preparato questo video però mi sono accorta di una cosa che non sapevo ovvero che è il primo di una serie pensavo fosse autoconclusivo è ambientato in Cina e dicono sia una sorta di mix tra Mulan e la canzone di Achille altro libro che non ho letto Mulan invece ho visto il film Disney perché sono stata costretta da Bibi e mi è piaciuto eh mi è piaciuto categoria romance ho messo tutte le categorie tutte le categorie sono stata brava se no se mettevo solo quelle che mi interessavano cioè se contavano sono a mano categoria romance ha vinto People We Meet On Vacation di Emery Henry con una media di 4.09 qui vi dico una cosa vi dico una cosa la categoria romance era la categoria in cui conoscevo più titoli questo perché TikTok mi spamma booktoker che leggono solo romance cioè ma è una gioia pure sui social ma è una gioia e quindi io conoscevo praticamente gran parte di questi 20 titoli in classifica assurdo e pensavo vincesse un altro libro che comunque è arrivato secondo con pochissimi voti di scarto dal primo cioè quindi si conferma questa cosa che io riesco a predire i titoli i libri validi anche senza averli letti cioè ma sono un genio ma è una roba pazzesca ma assumetemi assumetemi dove? in qualche parte nella categoria science fiction ha vinto project ale mary di andy weir che porca paletta ha una media di 4 e 53 altissimissima finora è quello più alto comunque qui io pensavo vincesse il libro di kazushiguro che volevo leggere ancora prima che uscisse che non ho ancora letto ma manco acquistato che è clara and the sun è stato tradotto letteralmente anche questo in italiano clara e il sole ho messo la media di shiguro no 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 comunque mi sono sbagliata di poco ancora una volta perché quello di shiguro è arrivato secondo categoria horror nella categoria horror ah comunque come potete vedere c'è alcuni sono già stati tradotti in italiano ecco comunque categoria horror ha vinto the final girl support group di grady hendrix con una media di 3,68 e insomma non proprio altissima e non proprio altissima devo dire poi qui ci metto ovviamente later di steven king che è arrivato secondo con una media di 4,03 anche qua una media non altissima ma comunque 4 stelline su 5 assolutamente accettabile non so se later sia veramente un horror sono contenta che billy summer non l'abbiano messo tra horror ma tra mystery e thriller così riconosciamo che king non scrive solo horror bravi bravi questo non so se rientra proprio nell'horror perché sono libri che non ho ancora letto di king però insomma ok secondo buono però vedete a me sembra un po' ridicolo che i libri con una media più alta non corrispondono sempre ai vincitori assurdo assurdo andiamo poi super veloci nella categoria humor non pensavo nemmeno ci fosse sinceramente sono rimasta sorpresa vincitore broken di jenny lawson media 4.16 dei 20 libri della categoria humor non ne conoscevo nemmeno uno nella categoria non fiction conoscevo qualcosa il che è un miracolo non conoscevo il vincitore ovvero non so nemmeno come pronunciare questa parola the antropoceni di john green con una media di 4.47 quindi anche qua super alta come media al secondo posto c'è parole di conforto di mattaig ve lo pronuncio in italiano perché è già stato tradotto per edizioni e.o che appunto è uscito di recente in italia che ha una media alta anche questo perché è 4.16 questo lo conoscevo quello di mattaig lo conoscevo nella categoria memoir e autobiografie faccio piuttosto schifo perché non conoscevo praticamente nulla il vincitore è crying in h mart di michelle zoner con una media di 4.35 quindi molto buona e parla del crescere come coreo americana poi parla anche della perdita della madre formare la propria identità e così via quindi insomma sembra anche interessante però non conosco assolutamente nulla di questi libri faccio poi schifo anche nella categoria storia e biografia dove non conoscevo nessun libro nemmeno il vincitore che è stato empire of pain di patrick rudden kiff con una media di 4.59 mi sa che questo per ora è quello più alto complimenti questo libro parla delle tre generazioni della famiglia suckler che per chi non lo sapesse è una famiglia americana che ha fondato diverse cause cause case farmaceutiche si dice case farmaceutiche compagnie farmaceutiche vabbè vorrei per dire che nella categoria graphic novel e fumetti insomma me la cavo meglio ma è leggermente meglio quindi sostanza faccio schifo oppure anche in questa categoria conoscevo però il primo e il secondo classificato forse perché è già uscito in Italia si tratta di Lore Olympus di Rachel Smith primo libro di una serie che dovrebbe riguardare il mito greco o almeno io so che nel primo libro c'è Ade e Persefone basta e a media comunque anche in questo caso molto alta perché è 4.56 sono poi molto fiera di me stessa per quanto riguarda la categoria poesia perché il libro vincitore l'avevo messo in wishlist si tratta di The Hill We Climb di Amanda Gorman cioè io sono una bomba comunque a mettere in wishlist i libri che hanno vinto cioè i libri più votati ma cioè sono proprio una bomba comunque è già uscito in Italia da Garzanti e la media è 4.55 a quanto pare poi ho scoperto di essere molto istruita anche sui romanzi di debutto l'ho tradotto così cioè tipo i romanzi delle autori emergenti pazzesco e sempre grazie a TikTok cioè capito voi pensate che TikTok sia inutile invece no io grazie a TikTok conosco qualche libro vincitore di Goodreads no non ne conosciamo manco uno bravo TikTok bravo comunque a quanto pare siamo solo in Italia che schifiamo i romanzi degli autori emergenti perché non si spiega comunque vincitore The Spanish Love Deception di Elena che è una media di 4.20 ed è un romance ovvio è un romance e appunto grazie a BookTok conoscevo poi qualcosa anche degli young adult fiction tra cui il vincitore che secondo me tra l'altro ha una copertina davvero molto molto bella e questo libro faceva parte anche della classifica dei libri di debutto quindi ha vinto il libro di un autore emergente anche nella classifica young adult fiction e si tratta di Fire Keepers Daughter di Angeline Bulley media di 4.40 complimenti vi dirò che non so di cosa parla non sono andata ad informarmi sulla trama ma mi ispira sulla fiducia proprio cioè mi ha dato comunque sempre delle vibes positive anche nella categoria che viene adesso devo dire che conoscevo parecchi libri sempre grazie a TikTok è pazzesca secondo me questa cosa dovete rivalutare TikTok comunque perché vi farà scoprire tanti libri nella categoria young adult fantasy and science ha vinto non avevo dubbi sinceramente Rule of Wolves di Leif Bardugo con una media di 4.41 questo però è il secondo volume di una serie la serie King of Scars e sinceramente non ho idea se ci sia in italiano questa serie se sia stato tradotto il primo o se si stia lavorando sul secondo proprio zero clue perché è un'autrice è una di quelle autrice che ho evitato proprio perché tutti ne parlano eccetera eccetera anche se devo dire che mi incuriosisce e penso prima o poi di acquistarlo e leggerlo la non a casa perché ha proprio degli elementi che potrebbero piacermi ultima categoria quindi poi abbiamo finito una categoria middle grade and children allora qui pensavo di conoscere pochissima roba e invece no conoscevo in particolare il secondo classificato che è quello di Victoria Schwab è uscita anche in italiano si tratta di una trilogia io lo chiamo tipo la trilogia di città di spettri però non so se sia il nome dell'intera trilogia o il nome di uno dei volumi non mi ricordo il primo classificato invece non posso dire di conoscerlo più che altro conosco l'autore ma non conosco il libro l'autore è Rick Riordan il libro è Daughter of the Deep con una media di 4,35 niente raga io pensavo di portare questo libro che è appunto qualcosa di diverso dal solito perché magari ci permette di tenere d'occhio alcuni libri che usciranno magari in Italia oppure alcuni di questi come vi dicevo sono già usciti ma magari sono forse passati un po' in sordina e non si può magari sono passati in sordina e si meriterebbero di essere conosciuti anche nel nostro paese magari alcuni di questi non verranno mai tradotti in italiano però se siete pratichi con l'inglese potete leggerli in lingua quindi insomma è sempre un modo per scoprire libri nuovi ho pensato che potesse essere qualcosa di carino da fare però non so se sia andata bene questo esperimento fatemi sapere se appunto vi è piaciuta l'idea se secondo voi dovrei replicarla anche il prossimo anno fatemi sapere se c'è qualcosa che vi incuriosisce se magari c'è qualcosa che avete già letto in italiano tra quelli che sono già stati tradotti oppure in lingua se appunto leggete in inglese cos'altro volevo dire non lo so io spero che vi sia piaciuto ultima nota non mi sono soffermata sulle trame di ogni libro perché sennò veramente veniva fuori un video lunghissimo e sarebbe più che altro stato da fare in una diretta piuttosto che in un video preparato su youtube spero che questo comunque non sia un problema per voi io se riesco vi lascio i libri linkati qui sotto ad amazon con cui sono affiliata se sono stati tradotti in italiano ve li lascio in italiano altrimenti ve li lascio in inglese penso almeno di farlo poi vedrò se lo faccio davvero nulla vi lascio qua sotto anche il mio account coffee ciao patatina bella ciao il mio account coffee stavo dicendo neee 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 vi lascio qui sotto il mio account coffee qualora vi piacciono i miei contenuti se volete offrirmi un caffè virtuale e trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di youtube quindi blog pagina facebook gruppo facebook twitter instagram mudrizzo del canale telegram per essere aggiornati in anticipo sono le nuove uscite del blog e del canale mi trovate anche su tiktok detto questo direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti